E' stato Dimitri Ruggeri, mi ha fatto leggere delle cose che lui ha scritto e erano interessanti alquanto anomali e anche fastidiosi a volte. C'era una certa musicalità che comunque mi attraeva. A volte l'attore è attratto semplicemente dal fatto estetico del verso, di come è scritto. E quindi la scrittura contemporanea è molto accantivante proprio per questo motivo. Un po' tipo come, forse faccio un paragone assurdo, un po' tipo Palazzeschi, che scriveva delle cose tipo Lasciatemi divertire, dove veramente chi si diverte è lo scrittore, ma in realtà è più l'attore che lo va a interpretare perché può giocare su questa forma sincopata e su questa forma alternata. Un po' come Dino Campano, questi autori Cavafis, che comunque al di là del fatto metrico poi hanno sostanzialmente un elemento oggettivo che riguarda tutti nel verso, che è l'amore. In questo caso anche qui l'argomento di Dimitri Ruggeri è l'amore. Infatti il libro si chiama La raccolta è status d'amore, cioè al momento della sua vita in cui si è trovato. Ho fatto una lettura, come si dice, asettica, cioè interpretata, ma dove ognuno ha quel tipo di lettura che ho fatto può aggiungere i colori che vuole perché l'ho fatto solo per far capire il verso che può sfuggire in una lettura veloce, fugace, a bassa voce. È stata una cosa, prima di tutto, molto carnale, perché le poesie sono molto, in alcuni momenti, sono molto sensuali, anche molto sexy, in un certo senso, perché c'è anche un riflesso di una passione molto carnale, molto fisica e si sente. Ho colto questo momento emozionale relativo alla sensualità del testo e che è stata la cosa che mi ha condizionato di più nella lettura. Però la cosa che mi ha preso per mano e mi ha portato all'interno di questa lettura, che spero poi mi piacerà l'ascolto, ma soprattutto la cosa importante qui è il testo, cioè ascoltare, ma soprattutto leggere attentamente il testo, cioè il mio ruolo qui è solo quello di darvi una chiave di lettura in più, cioè di dirvi, vabbè, il verso va letto in questo modo, ma la cosa importante è il verso in sé per sé, cioè è proprio il libro, poi l'audiobook e tutto il resto sono delle compagini che vanno aggiunte, ma la cosa importante è la potenza del verso. La potenza del verso in questo caso per me è stato un fatto di trascendenza o di surrealismo che c'è nel testo e questo forte legame passionale che poi si ritrova in quasi tutte le poesie, questo proprio amore carnafi, sessuale, ecco la parola giusta è sessuale. E poi ci sono delle cose che possono dare del folli all'autore, ma anche a chi lo interpreta, di paesaggi un pochettino surreali, che non sono qui ma possono sicuramente vivere in un'altra parte e che vivono sicuramente dentro l'immaginazione dell'autore, come c'era una frase, abbiamo iniziato lo spicheraggio in studio con una poesia che all'improvviso ho visto i cinque soli. Per questo progetto mi è piaciuto molto utilizzare strumenti classici acustici, a partire naturalmente dalla chitarra classica, per poi aggiungere flauto, traverso, violino e violoncello. Era la prima volta che mi cimentavo nella scrittura per il violoncello e l'ho trovato molto, molto stimolante e anche discretamente complicato per le notevoli capacità espressive del violoncello, ma anche difficoltà tecniche. Sono stato aiutato molto dal recitato, perché avevo delle registrazioni audio del recitato con l'interpretazione di Corrado Oddi e la cui interpretazione mi ha aiutato molto a aggiungere del mio a qualcosa di già preesistente, qualcosa di già interpretato. Subito mi sono sentito quasi ispirato a aggiungere a questa musicalità la mia musicalità, quella che io esprimo con la chitarra principalmente. La chitarra all'interno di questo viaggio musicale è leggermente in sottofondo, quasi fosse la base, il filo conduttore di questo viaggio dall'inizio alla fine, una base naturalmente armonica, ma quasi il suono che ci porta dall'inizio fino alla conclusione di questo viaggio dell'amore. Ho cercato di ascoltare e percepire il suono che ciascuna poesia mi ispirava. Ciascuna poesia ha una sonorità diversa, ha un ambiente quasi differente. Ci porta naturalmente all'interno di un viaggio ben codificato in posti differenti e quello che ho cercato di fare io con le mie musiche è appunto ricreare posti, nel mio caso musicali, delle ambientazioni musicali all'interno di posti fisici che ciascuna poesia mi ispirava. Alcune sonorità più, diciamo, arabbeggianti o addirittura spagnole mi sono state proprio tirate fuori, quasi spontaneamente, dalla musicalità, dal ritmo delle poesie e naturalmente del recitato. Grazie a tutti. Questo progetto si potrebbe scrivere in modo diverso se non ogni giorno della vita di ciascuno. Forse ogni anno potrei scrivere una colonna sonora differente perché ogni anno è diversa l'esperienza di una persona, è diversa le sensazioni che uno ha. Io sapevo subito dopo aver letto anche due o tre parole di una poesia quale atteggiamento, quale ambiente avrei voluto ricreare per quella poesia. Ho notato subito che l'andamento sequenziale delle poesie appunto era un andamento altalenante, diciamo che le sensazioni, la forza di ciascuna poesia rispetto alla successiva era quasi opposta, come se fosse una pulsazione con un'andata e un ritorno, quasi un incrementare della forza della parola ma anche della sonorità di ciascuna canzone e un rilassamento subito dopo la poesia successiva. Anche in base a questo ho dovuto cercare di creare questa ambivalenza tra una poesia e la successiva cercando di fare qualcosa di più intimo, come una chitarra sola nelle poesie più delicate e più ristrette nel senso di forza, mentre in quella successiva ho cercato di aggiungere strumenti, di mettere dentro informazioni, forza, anche rabbia in alcune per chiarare proprio questo stacco netto tra una poesia delicata, magari più introspettiva rispetto a un'altra più forte, più energica, che trasmette proprio una forza maggiore rispetto ad altre. Grazie. 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 Grazie.